Vettrine dei negozi spente per un'ora ieri sera nella BAT. Anche ad Andrea gli esercizi commerciali hanno partecipato a quello che è stato definito il funerale del commercio, organizzato per denunciare la situazione drammatica che sta vivendo il settore in tutta Italia. Una giornata di mobilitazione nazionale voluta da Confcommercio, Confessercenti, CNA, Confartigianato e Rete Imprese Italia per dire no ad un regime fiscale barocco che soffoca hanno spiegato. In un anno nelle sole province di Bari e BAT hanno chiuso i battenti circa 3.000 imprese. Il 2013 potrebbe essere peggiore dell'anno precedente. Nello specifico i dati presentati ieri presso la Camera di Commercio di Bari lasciano basiti. L'anno scorso in provincia di Bari hanno aperto 2.161 attività ma ne sono state chiuse 2.958 con un saldo negativo di meno 797 negozi. Gli esercizi commerciali sono in ginocchio, i commercianti non ce la fanno più. Solidarietà è stata espressa dal sindaco di Andrea Nicola Giorgino. La politica e le istituzioni devono fornire rapide e non più prorogabili risposte alle centinaia di migliaia di imprese in difficoltà, strozzate da una pressione fiscale intollerabile e da una burocrazia assillante, ha spiegato con una nota il primo cittadino. Il piccolo commercio è in una situazione gravissima, acquita dalla stangata IMU che ha ulteriormente danneggiato i consumi. Non è possibile sprecare altro tempo prezioso. Lo Stato deve tagliare i costi della sua macchina elefantiaca, ha concluso Giorgino, abbassando la leva fiscale ed archiviando definitivamente l'ipotesi di un nuovo aumento dell'IVA. Grazie. Grazie. Grazie.